Pordenone, 18 settembre 2014. Due indagini congiunturali non fanno primavera, ma è altrettanto vero che dopo una striscia negativa lunga diversi anni, constatare un primo accenno di ripresa ribadito in sequenza nel secondo trimestre è un fatto che conforta, infonde ottimismo e lascia per strada parte della cautela con cui abbiamo dovuto ammantare ogni giudizio sull'andamento dell'economia provinciale. Questo il commento di Giovanni Pavan, presidente di Camera di Commercio Pordenone, ai dati contenuti nella seconda indagine trimestrale dell'anno, dettagliata nella più ampia elaborazione che Union Camere, a Udine, ha proposto in una conferenza stampa di riepilogo del dato macroeconomico regionale. Per la prima volta, tra l'altro, congiunturale e tendenziale hanno lo stesso segno ed anche questo è un fatto non trascurabile in una valutazione su presente e immediato futuro. Trimestre positivo, si diceva, rispetto al precedente, ad eccezione di una sola voce. Produzione 4,1%, fatturato 5,8%, fatturato estero 8,4%, ordini interni meno 0,7%, ordini esteri 5,6%, costi di produzione 1,4%, in crescita l'occupazione 1%. Positivo anche il confronto con lo stesso periodo del 2013, secondo lettura dei macrodati. Produzione 2,7%, fatturato 0,8%, fatturato estero 2,4%, ordini interni 1,3%, ordini esteri 3,1%, costi di produzione 1,2%, occupazione 1,9% e prezzo di vendita 0,1%. Il sondaggio tra imprese sulle previsioni per il terzo trimestre 2014 evidenzia pareri di sostanziale stabilità. Il 90% degli intervistati, ha detto Giovanni Pavan, ritiene che l'occupazione si manterrà invariata. Il 65% pensa lo stesso per quanto riguarda gli ordini esteri e poco meno della metà lo crede per quanto concerne il mercato interno. L'export, ha rilevato ancora Pavan, sta offrendo motivo di soddisfazione. Lo percepiamo anche dal numero di adesioni, direi elevato, che le nostre missioni di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese stanno riscuotendo. Vi è in particolare un vero e proprio boom per l'area medio orientale, con particolare attenzione a Emirati, Qatar e Arabia Saudita.